SEDU Non è la tua prima volta in manette, vero? Hai una parola di sicurezza? Avvisa il segretario Blake che abbiamo Quan Chi Lo porteremo alla struttura di massima sicurezza di Fort Charles entro un'ora Sì, signora Voi due di guardia, fra venti minuti verranno a prenderlo Oh, adesso si fida di me come babysitter Cage, rapporto Non abbiamo preso Dvora Abbiamo seguito le tracce fino a Makeba Cliff, poi è scomparsa Diavolo Jackie crede che la fisiologia unica di Dvora ci permetterà di localizzarla Sta riconfigurando il suo smartcom per seguirne i feromoni Solo al mio ordine Ferite, non uccidete Sargente, non avete due ore Serve che la troviate immediatamente Sonia Cassie, apprezzo quello che state facendo Ma non c'è tempo Riporta qui la squadra, dobbiamo riunirci e riposizionarci Sì, signora Fanno del loro meglio Lo so Generale Abbiamo un ospite Voi due siete amici, giusto? Sapevi del suo arrivo? Affatto Generale Maestro Asashi Non ho ricevuto notizia di questa visita Prenderò Quan Chi Abbiamo tutto sotto controllo Forse... Deve morire Raiden ne ha bisogno Senza Quan Chi non possiamo rianimare Liu Kang e gli altri Revenant Li lasceresti intrappolati? Come lo eri tu? A me interessa soltanto Quan Chi Non farlo, Anzo Ti abbatterò Allora siamo in stallo Semeru Quan Chi è mio Non lo so ? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Non voglio farti del male, generale Blade Richiama i tuoi uomini, Anzo! Se tiene la nostra amicizia, consegnami Quan Chi Ritirati! Senza sento sei vulnerabile! Grazie a tutti! Proprio come i vecchi tempi Grazie a tutti! Grazie e buonanotte Questa è la tua fine Ammira il mio potente Grazie a tutti! Provochi la mia era Solo la morte di Quan Chi attenuerà la mia ira Anzo no! Hai guadagnato fiducia per lo Shirai Ryu Non sprecarlo uccidendo un vecchio stregone avvizzito Quello stregone avvizzito è l'artefice della mia sofferenza Grazie a tutti! Maestro Asashi, maestro Asashi, ti sono grato di essere qui Parla francamente, preferirei non attardarmi qui Tu rimetti in piedi lo Shirai Ryu Mentre io ricostruisco il Lin Kuei Cerchiamo di cancellare il passato oscuro dei nostri clan Di dedicarli a proteggere il regno della terra Questo scopo comune ci permette di mettere fine ad antiche rivalità E ripartire da zero Confesserai quello che hai a lungo negato? Che le mani del tuo clan sono sporche del sangue dello Shirai Ryu? Del sangue della mia famiglia? Il nostro onore è senza dubbio macchiato Ti prego, siediti Dopo che tu e io ci siamo liberati dal controllo di Quan Chi Ho cercato il mio clan Speravo che una ribellione interna avrebbe annullato i piani del Gran Maestro Ma Sektor aveva realizzato la visione di suo padre E Lin Kuei era completamente cibernetico Giurei di uccidere Sektor e i suoi seguaci Riformare Lin Kuei e ripristinare il nostro onore Non sono interessato alla politica del Lin Kuei Sub-Zero Quando infine uccisi Sektor Scoprì che Lin Kuei non aveva sacrificato il suo onore con l'iniziativa Cyber L'avevamo abbandonato molto tempo prima Non ci sarà pace, Scorpion! Frost, il Lin Kuei è ancora senza onore Maestro Asashi, aspetta Che cosa? Altri tradimenti? Avrò la tua testa! Altri tradimenti? Questa è la tua fine? No La nostra storia finisce qui, Sub-Zero. Perché l'hai fatto? Non ti ho condotto qui per tradirti. Frost è forte, ma manca di buon senso. Non riesce a vedere la saggezza della pace. A lei ci penserò io. Tu parli dell'onore perduto dell'Inquai. Per anni ho creduto che tu avessi erroneamente incolpato l'Inquai della morte della tua famiglia e del clan. Ma le cyber memorie intatte di Sektor hanno svelato la verità. Il Lin Kuei deve rispettare i patti, Sektor. Il Gran Maestro ha dato a Shinnok la sua parola. Shinnok usa le bugie come moneta, come fai anche tu. Il pagamento mi è dovuto. Ho sterminato lo Shirai Ryu come promesso. Anzo, Asashi è vivo. È lui il tuo spettro, Scorpion. Ho creato Scorpion dall'anima di Asashi dopo la sua morte. Abbiamo rispettato il patto. Alla lettera, non nello spirito. Nulla ti è dovuto. Aromi, Satoshi. Se avessi saputo della complicità del mio clan dell'estinzione dello Shirai Ryu, tutto sarebbe diverso ora. Ho ucciso tuo fratello perché pensavo che lui... Quan Chi è responsabile della morte di Bi-Han. Sektor si sbagliava. C'è un debito da pagare. E Quan Chi lo pagherà. Forza, slegalo. Scorpion, possiamo... Il mio nome è Anzo Asashi. Hai ucciso mia moglie. Mio figlio. E poi ti sei fatto strada nella mia testa. Hai deviato la mia vendetta. Mi sei costato l'unica possibilità di riportarle in vita. La tua famiglia... SILENZIO, STREGONE! Nulla può salvarti ora. Tu estregoneria non lo salverà. Mi libererò di te! Mi libererò di te! Finalmente, tu provi il mio dolore. Scorpion, basta! Quan Chi! Ah! Amuleta... Tu, vieni qui! No! No! Norino... ...i ti stodai... ...mi... ...mi sticca... ...mi trova... ...ni coniari. Sangue chiama sangue. Il tuo debito è pagato. Merda! Liberaci! Subito! Shinnok. Come sono insignificanti. Questo essere saluta Lord Shinnok. Quan Chi sceglie bene i propri servitori. Sagge riportarmi in vita nel regno della terra. Oltre le loro difese. Quan Chi li ha ingannate. Ha lasciato che lo catturassero. Sapeva che lo avrebbero portato qui. Peccato non possa vedere il suo lavoro completato. Non ci saranno sorprese da parte vostra, signor Cage. Prendetelo. Sia lode a Lord Shinnok. Mettiamoci subito in marcia. Ci sono forze terrestri nel regno occulto. Ne sono cosciente. Verranno neutralizzate. Sia lode a Lord Shinnok. Oh merda. Mamma! Dov'è papà? Sia lode a Lord Shinnok. Mamma, dove sono andati? Mamma! Tuo padre. Prigioniero di Shinnok. Al Tempio Celeste. Sia lode a sottot il來了. No a Hande a